È un patire allo stato puro, qui si invecchia, ho i capelli bianchi, perdiamo anni di vita a guardare la Fiorentina, vi prego aiutateci, non è possibile tutte le volte questa storia. Portiamo a casa un risultato molto importante, ma quanta fatica, quanto patire, ma soprattutto i soliti maledetti, erroracci, malefici, bastardi, non è possibile prendere gol alla stessa maniera anche oggi. Non è possibile, non è veramente possibile, anche perché te duri un sacco di fatica in più nell'andare a rimediare i tuoi errori. Questa è una partita contro un avversario che sicuramente è stato sponsorizzato in maniera fin troppo roboante. È un buon avversario, paragonabile probabilmente al Basilea, squadra forte, ma fermati là. Quindi va bene così, dando un'occhiatina al volo al risultato, l'Olimpiakos che uccella la Stonevilla, ti fa capire che, sperando di arrivarci in finale, insomma, sarà partita vera, perché io credevo che la Stonevilla potesse battere l'Olimpiakos senza problemi, ma parliamo di Fiorentina-Bruge. Fiorentina-Bruge è una partita che doveva essere chiusa prima, dovevamo mettere in cascina prima il risultato, perché dal sessantesimo del secondo tempo il Bruges era in dieci per l'espulsione di Oniedeca, per doppio giallo, e quindi dovevamo sfruttare maggiormente. Però vediamo il lato positivo. Il lato positivo è che il Gallo Belotti segna il suo secondo gol con la maglia della Fiorentina, ed è un gol da bomber, è un gol da attaccante vero, perché? Perché spalle alla porta, ha cantato il Gallo nel miglior momento, spalla alla porta, si gira benissimo e di sinistro trova il gol sul palo più lontano, quindi gol veramente molto bello. Però, purtroppo, nota positiva, nota negativa, sottile, euro-goal. Ormai l'è diventato invece il tiraggiro di Insigne, ora il tiraggiro è di sottile, che ha fatto un gol fotocopia a quello fatto contro il Sassuolo dopo appena 4 minuti, grandissima partita. Poi purtroppo, ahimè, si è infortunato alla spalla, speriamo non sia niente di grave al suo posto entrato qua. Però, dopo il gol, purtroppo la Fiorentina, purtroppo si complica sempre la vita, si complica sempre la vita, calcio di rigore dopo consulto del direttore di gara Oliver Alvar, calcio di rigore, Van Aken dal dischetto segna il gol dell'1-1 spiazzando Terracciano, e poi da lì la Fiorentina ha inizialmente un po' accusato il colpo, per poi riniziare ad agire proprio con il gol del Gallo Belotti al 37esimo. Poi, dopo il gol, sicuramente la Fiorentina era più libera di testa, Beltran ha sfiorato il gol e oggettivamente su Beltran è stato l'unico squillo che gli ho visto fare, partita un po' in ombra da parte di Beltran, come detto l'uscita di sottile per infortunio, e poi Bruges che dietro comunque ha rischiato tante volte con questa mania di andare a fare l'impostazione dal basso che spesso e volentieri ti penalizza al 60esimo, espulso Oniedeca, ma al 63esimo il contropiede della giornata, stavolta è Ranieri il colpevole massimo, ma insomma anche Quarta qualcosa in più poteva fare, ma indubbiamente Ranieri ha lasciato rimbalzare il pallone, Thiago, che è un attaccante vero, non per nulla andrà in Premier al Brentford, ci farebbe tanto comodo uno come Thiago, anche bravo anche in fase difensiva nel finale, errore grave appunto di Ranieri che viene uccellato da Thiago a centrocampo, ha cercato l'antissimo, ma io mi domando Ranieri, perché? Perché? Chiaramente con questo non è che Quarta sia esente da colpe, perché anche lui sicuramente poteva fare un po' di più. Girandola dei cambi, entra Maxime Lopez al posto di Artur, entra Beltran al posto, entra Econé al posto di Beltran, come detto l'argentino poca roba, solo quell'occasione di cui vi avevo detto prima, e poi sempre comunque gli stessi errori, e qui sicuramente un pochino lo zampino d'italiano, cioè con questo, ripeto, non voglio togliere nulla, da quando Sottil comunque è uscito, la Fiorentina ha perso un po' un punto di riferimento, perché Sottil è diventato un punto di riferimento, insomma Beltran, insomma Nico, insomma Jack, e soprattutto a tratti parevamo noi in dieci. Poi la Fiorentina con l'Europa, con la Conference, ha questa fortuna fino alle fasi finali, poi in finale purtroppo no, e praticamente entra Baraka all'ottantottesimo al posto di Jack, entra Enzola al posto di Pelotti, Enzola al novantunesimo, prende prima un palo e poi trova il gol del 3-2. Quindi niente, adesso ancora non si è fatto niente, ancora non si è fatto niente, aspettiamo a festeggiare, andiamo in Belgio alle 18.45 di giovedì prossimo, convinti e consapevoli che abbiamo un gol di vantaggio che ci fa sempre comodo, ma dietro ragazzi, purtroppo noi, se non la smettiamo di concedere così tante occasioni, sempre nella stessa maniera, non si va da nessuna parte. Fatemi sapere che ne pensate, ciao.